Corso gratis su YouTube Analytics oggi alle 4 di pomeriggio, sarà live quindi potete fare tutte le domande che volete se non lo potete guardare ora in questo momento oggi potete guardarlo in differita lo dico perché fa parte della classe YouTube che arriva alla sua terza lezione quella che stiamo facendo, stiamo facendo una classe gratuita che può essere anche quella seguita in differita così ognuno si può fare il suo percorso, una piccola scuola insomma, sul forum GT si sta prendendo punti eccetera eccetera ma questa lezione in particolare sarà dedicata a YouTube Analytics, una lezione importante per capire un po' di più tutti i dati che ci sono dietro andremo a vedere i singoli pannelli che sono quelli generali che cosa ci dicono, poi entriamo dentro i pannelli cerchiamo di capire quali sono i dati importanti, come tirare fuori i dati giusti per poi creare dei video e leggere l'analitica, creare i gruppi, fare i confronti, usare i filtri, insomma un corso gratuito per tutti voi vi aspetto live alle 4, mi raccomando, puntuali per chi vuole seguire la diretta così potete fare le domande in tempo reale e poi insomma seguire tutta quella che è la classe in descrizione vi metto tutti i link e per chi la segue in differita consiglio sempre di iscriversi al canale perché così poi si possono guardare tutti i video che andremo a produrre su YouTube se ne sono già tantissimi, se andate nella home del canale potete vedere tutti i video che abbiamo fatto su YouTube oppure ci potete seguire su Telegram dove facciamo il sunto di tutto quello che facciamo su Fast Forward, a questa rubrica dedicata a chi vuole approfondire i vari temi legati a internet a dopo